Arriva il museo di Dario Fo e Franca Rame a Rocca Costanza San Benedetto, la regione ribadisce l'impegno al recupero Evasione fiscale, sequestrati tre immobili a un imprenditore di Gradara Giorno del ricordo, Pesaro commemora il dramma delle foive Carnevale di Fano, ecco la settimana grassa senza sfilata dei carri Buonasera a tutti voi che state guardando Rossini TV L'unica TV con sede a Pesaro visibile in tutta la regione Marche Oggi è giovedì 10 febbraio e apriamo questa edizione parlando della presentazione del progetto del museo Dedicato a Dario Fo e Franca Rame che sarà realizzato a Rocca Costanza Notizia che vi avevamo anticipato ieri e che oggi è stata dettagliata in una conferenza stampa Convocata dal comune di Pesaro alla presenza dei figli di Dario Fo e Franca Rame Vediamo il servizio Appena qualche decennio fa era un carcere ed un luogo di reclusione Tra qualche anno invece ospiterà un museo ed un luogo della massima libertà espressiva Come quella che sapevano portare sui palcoscenici e nei musei personaggi di caratura internazionale Come Dario Fo e Franca Rame Il museo Fo e Franca Rame si realizzerà a Pesaro, si realizzerà a Rocca Costanza E questo quanto accordato nei giorni scorsi dopo un patto stretto con il Ministero della Cultura Che finanzierà il progetto grazie a 2.350.000 euro che si aggiungono ai precedenti 5.400.000 euro Già stanziati nell'accordo tra comune, ministero, agenzia del demanio e soprintendenza ai beni culturali Progetto del museo che è stato presentato oggi in comune di Pesaro Alla presenza della fondazione Fo e Rame e dei figli di Dario e Franca Che hanno scelto Pesaro come luogo adatto a creare qui un museo Che non sarà soltanto un museo ma anche un luogo per spettacoli dal vivo Trasferendo così l'archivio Fo e Rame che attualmente si trova nella città di Verona Era già storico l'accordo molto complicato tra demanio, comune e archivio di Stato Per la ristrutturazione completa di Rocca Costanza e lo spostamento dell'archivio di Stato Circa 5 milioni In questo accordo una parte importante della Rocca viene destinata a spazi comunali Per attività culturali E quindi abbiamo da subito cercato di capire cosa poter portarci Per dargli il maggiore rilievo e il valore massimo possibile Nel frattempo abbiamo incontrato nel nostro percorso la fondazione Dario Fo e Franca Rame Che si sono innamorati di quel luogo e hanno scelto Pesaro come luogo per una grande testimonianza Di Dario Fo e Franca Rame, il grande archivio di Stato, il grande archivio che hanno E la creazione di un museo vero e proprio Grazie a quest'idea abbiamo sviluppato un progetto e l'abbiamo presentato al Ministero della Cultura E il Ministro Franceschini ieri ha ufficializzato il finanziamento di altri 2 milioni e 350 Quindi non solo Rocca Costanza verrà completamente riqualificata Ma nascerà a Pesaro un altro museo di attrattività mondiale Perché stiamo parlando di un premio Nobel come Dario Fo Stiamo parlando di una coppia che ha dato moltissimo dal punto di vista culturale, teatrale È stato un punto di riferimento vero per tante generazioni e al tempo stesso di una coppia Che si è caratterizzata anche per tante battaglie civili, politiche nel nostro paese Quindi siamo davvero orgogliosi di questa scelta e siamo davvero grati alla Fondazione Dario Fo e Franca Rame Per aver scelto Pesaro Siamo felici e emozionati per questa notizia che è arrivata ieri Che noi ovviamente è un progetto a cui lavoriamo da mesi Però tenevamo lì perché poi finché non c'è la firma su carta non si può mai sapere cosa succede Quindi finalmente ieri quando è arrivata la notizia approvato Tutto è stato firmato e insomma abbiamo iniziato a saltellare tutti come bambini Felicità, messaggi, poi questa cosa dei social amplifica tutto Ed è proprio pazzesco vedere poi quanta gente che voleva bene a Dario e Franca Stava aspettando il momento di sapere che poi tutto il patrimonio lasciato da loro Insomma fosse destinato da qualche parte un luogo fisico che si può visitare E che però può portare non solo il fatto che va in archivio e visiti oppure in un museo Ma può portare proprio una sinergia di situazioni tra teatro dal vivo Come Rocca Costanza che ha gli spazi visitare le opere d'arte E visitare la parte documentale che sta appunto in archivio di Stato È assodato il legame di Dario Foi e Franca Rame con questa terra Dalle direzioni delle Rossine Opera Festival a quelle del Carnevale di Fano Alla presenza al Teatro Universitario di Urbino Ora il nome di Dario Foi e Franca Rame diventano un museo di questa città Un museo dai tempi di realizzazione non brevissimi Forse nel 2024 si potrà vedere la prima parte relativa agli spettacoli dal vivo Ma il progetto c'è, c'è l'accordo e ci sono gli stanziamenti per partire Il contenuto del museo Dario Foi e Franca Rame e del centro culturale che poi si porterà dietro Ci dà l'opportunità non solo appunto di avere, diciamo, di ospitare uno dei temi più importanti A livello del teatro italiano degli ultimi due secoli Ma soprattutto anche di avere fondi non comunali in questo caso per ristrutturare un bene ad uso comunale Quindi capiamo anche l'importanza di questa operazione a partire dal fatto che Questi renderanno fruibile innanzitutto in maniera molto più qualificata anche la cosiddetta piazza d'armi Che è il cortile di Rocca Costanza che tutti siamo stati abituati fino alla recente chiusura Ma questa operazione consenterà anche la riapertura di calcare per esigenze già artistiche, teatrali e di spettacolo dal vivo I tempi dei lavori saranno mediamente lunghi come capita in strutture di questo pregio Ma quello che riusciremo ad anticipare sarà il tema dello spettacolo dal vivo Punteremo a recuperare per primi i locali al piano terra che saranno poi anche quelli sede della fondazione E per poi arrivare prima possibile e speriamo veramente perché sarà un'altra delle restituzioni che la città amerà di più Anzi dove forse probabilmente nessuno è mai salito ovvero le torri di Rocca Costanza Da cui poter ammirare il panorama innanzitutto ma anche spettacoli ad hoc che potranno essere analizzati anche in quegli spazi E sempre nella giornata di ieri ci siamo occupati anche della situazione dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto Il cui recupero secondo il consigliere regionale Andrea Biancani ha avuto un'improvvisa retromarcia di impegno da parte della regione Oggi però è arrivata la secca replica dell'assessore Aguzzi Dopo il jacuzzi lanciato dal consigliere regionale del PD Andrea Biancani Su una presunta retromarcia di impegno di fondi del PNRR per il recupero dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto L'assessore regionale all'urbanistica Stefano Aguzzi tirato in ballo nel cosiddetto dietrofront Decide di intervenire silenziando le polemiche e rinnovando l'impegno al recupero della struttura pesarese di corso 11 settembre all'abbandono da decenni Quell'immobile è inutilizzato ed in degrado al centro della città di Pesaro E solo grazie a questa amministrazione regionale e al mio assessorato in modo particolare Si è divenuti ad un accordo che prevede su quell'area una ristrutturazione ed un riutilizzo Anzi grazie a questo intervento della regione il Comune di Pesaro ha potuto fruire di 15 milioni di euro di fondi pubblici ministeriali Per la ristrutturazione di una parte di quell'immobile Per il resto deve dare sempre il Comune di Pesaro alla regione Marche 1.100.000 euro Perché quella parte che ristruttura noi ovviamente gliela cediamo a titolo oneroso Noi stiamo aspettando quel 1.100.000 euro per poter partire con un progetto complessivo di riutilizzo Che rimetterà a nuovo tutta quell'area E non parliamo di un semplice appartamento, parliamo di 30.000 metri quadri Cioè la riqualificazione di un'intera area del centro storico della città di Pesaro Quindi un'operazione molto molto importante Il Comune di Pesaro o meglio il consigliere Biancani dovrebbe ringraziare questa amministrazione Che dopo 30 anni di immobilismo ha fatto sì che si potesse ripartire con un riutilizzo di quell'area Una messa in sicurezza a norma e a nuovo splendore di quell'immobile Quindi noi stiamo lavorando per questo Scansiamo le polemiche Andiamo avanti con il progetto La Regione Marche procede in questo senso Il Comune di Pesaro procede con la ristrutturazione Basta con le polemiche e guardiamo avanti e lavoriamo Ed ora passiamo alla cronaca perché la Guardia di Finanza di Pesaro Ha sequestrato beni dal valore di circa 400.000 euro Ad una società imprenditoriale con sede a Gradara Gli accertamenti preliminari effettuati dalle fiamme gialle In sinergia con l'Agenzia delle Entrate Hanno infatti rilevato un mancato versamento allo Stato Di ritenute fiscali negli anni 2018-2019 Il valore delle manovre evasive riscontrate Hanno così portato a sequestrare alla società di Gradara 70.000 euro dai conti correnti E tre immobili dal valore complessivo superiore a 300.000 euro Tre automezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri Nella frazione di Pirano Alto Al confine comunale tra Tavuglia e Gradara Per un incendio a un capannone di rimessa a veicoli Il rogo è partito da un furgone da lavoro Che trasportava bidoni di sostanze chimiche altamente infiammabili I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area in breve tempo Contenendo i danni E ci sono buone notizie perché prosegue la graduale discesa di contagi E ricoveri da Covid-19 nella nostra regione Marche Sono 2.935 i nuovi casi rilevati oggi Di cui 536 in provincia di Pesaro Urbino I ricoveri sono 361 di cui 50 in terapia intensiva Oggi si è registrato un solo decesso Si tratta di un uomo di 82 anni della provincia di Macerata Oggi 10 febbraio è il giorno del ricordo Data che dal 2004 identifica il dramma delle foibe E dell'esito della comunità Giuliano Dalmata Una ricorrenza che questa mattina Rossini TV ha celebrato Trasmettendo in diretta le commemorazioni organizzate Dal comune di Pesaro al Cippo di Trebbia Antico Dedicato alla memoria di questa pagina di storia Vediamo il servizio Tra questa gente terrorizzata c'era anch'io Ed avevo solo 5 anni Non sapevo perché la mia famiglia insieme a tantissima altra gente Faceva quel trasloco in modo così frettoloso e distrutti dal pianto Per andare dove? Poi da chi? Mi guardavo intorno e vedevo l'ansia, la disperazione e la paura Le parole di una testimone dell'esodo Giuliano Dalmata E quelle della scrittrice Adriana Ivanov-Danieli Riavvolgono il drammatico nastro di una delle pagine più buie E troppo spesso dimenticate del secondo dopoguerra Il 10 febbraio è dal 2004 istituito come il giorno del ricordo Della tragedia delle foibe e di un esilio Che arriva al cuore degli studenti pesaresi Collegatisi questa mattina con la diretta di Rossini TV Nella commemorazione organizzata dal comune di Pesaro Al Cippo degli esuli Giuliano Dalmati di Trebbia Antico Cippo dove una delegazione dell'istituto Alighieri Ha deposto una corona d'alloro Accompagnata dalla musica degli studenti del conservatorio Rossini Unici studenti in presenza Gli altri comunque sono stati raggiunti dalle tante testimonianze Come quella della dirigente dell'ufficio scolastico Alessandra Belloni E del prefetto Tommaso Ricciardi Che hanno sottolineato l'orrore di una pagina di storia Che va perennemente ricordata E ho scoperto l'orrore delle foibe Queste insenature che insomma ti davano una morte allucinante Cioè una cattiveria diabolica Un odio diabolico Gente che veniva gettata viva lì dentro E non era possibile né andarli a prendere né per loro era possibile risalire Il mare che unisce non divide Così il comune di Pesaro ha voluto etichettare questo giorno del ricordo Con l'assessore Camilla Murgia Il presidente del consiglio comunale Marco Perugini E il sindaco Matteo Ricci Che hanno sottolineato il dovere del ricordo Compreso quello della grande opera d'accoglienza di padre Damiani A Pesaro grazie all'esperienza stradionaria di padre Damiani Tanti esuli trovarono ospitalità, accoglienza e cittadinanza Le tengo molto importante quindi ricordare i massacri delle foibe Per dare onore alle migliaia di italiani che persero la vita Ed è giusto non dimenticare perché in questa tragedia C'è anche un pezzo di storia della città Non solo è importante ricordare gli italiani morti nelle foibe Non solo è importante ricordare quella pagina buia della storia Per troppo tempo rimossa dallo scontro ideologico Ma è importante ricordare che fino a quando ci saranno dei confini così netti Che si spostano continuamente Noi non avremo mai la pace e la convivenza tra le popolazioni È importante che la scuola continui un lavoro sulla storia dell'ultimo secolo Perché non è così conosciuta Tanto più questa appunto nascosta per troppi anni in maniera colpevole È ufficiale il 24 febbraio al Teatro Rossini Verrà presentato il nuovo Munei VR46 Racing Team di Valentino Rossi Che parteciperà al Moto Mondiale 2022 Con Luca Marini e Marco Bezzecchi In sella a Moto Ducati A confermarlo l'assessore comunale al fare Riccardo Pozzi Al termine della commissione pubblico spettacolo Che ha dato parere favorevole allo svolgimento dell'evento Dopo i prolungati lavori al Teatro Cittadino Fondazione Ant Italia Onlus ricerca per la sede di Pesaro Con disponibilità immediata una nuova figura da inserire nello staff promozionale Con mansione di fundraiser per supportare le attività di raccolta fondi delle campagne locali L'offerta è rivolta a candidati di entrambi i sessi Con residenza o domicilio nel comune di Pesaro o limitrofi Ci si può candidare inviando il curriculum alle mail che vi stiamo mostrando in grafica Continuano gli appuntamenti della stagione di prosa del Teatro Sperimentale Organizzata da Amat dal 15 al 20 febbraio a salire sul palco pesarese Sarà una straordinaria Anna Bonaiuto con Giusto la fine del mondo Opera realizzata dal poetico testo di Jean-Luc Lagars Dal quale fu tratto il pluripremiato film del regista Xavier Dolan Vincitore del Grand Prix della giuria al Festival di Cannes del 2016 E questo weekend la Sonosfera di Palazzo Mosca dei Musei Civici Sarà ingresso gratuito per quel che riguarda il programma Frammenti di Estinzione Programma gratuito ma pure ampliato Visto che la Sonosfera sarà aperta eccezionalmente anche di venerdì Cioè nella giornata di domani 11 febbraio Oltre che il sabato e la domenica L'ingresso gratuito è un modo per celebrare il recente ingresso del tema della tutela dell'ambiente All'interno della Costituzione italiana Si potrà accedere alla Sonosfera su prenotazione fino ad esaurimento posti I due turni di visita sono previsti alle 10.30 e alle 16 Anche quest'anno il Carnevale di Fanno deve fare i conti purtroppo con la pandemia Tutti gli appuntamenti principali vengono rinviati a questa prossima estate Intanto però l'ente carnevalesca ha presentato un ricco calendario di eventi Per la settimana grassa di fine febbraio Bello da vedere, dolce da gustare ma anche duro a morire Dovrebbe essere questo il nuovo slogan del Carnevale di Fanno Che nonostante il Covid proprio non si vuole arrendere È vero per il secondo anno consecutivo gli eventi principali sono rinviati all'estate Ma intanto si è deciso di puntare tutto sugli aspetti culturali di questa importante Kermes Dando vita a una settimana grassa densa di appuntamenti Durante questa settimana si concentrerà la parte più, tra virgolette, culturale della manifestazione A giugno faremo la parte dedicata ai bambini e alle famiglie E ad agosto il Carnevale per tutti, diciamo così Questa settimana grassa si apre ovviamente con il giovedì grasso Dove faremo la parte istituzionale, l'alza bandiera, il cambio delle chiavi Con il sindaco del Carnevale che quest'anno è un cupido un po' strampalato Interpretato da Marco Guidi Con la musica arabita ovviamente che ci allieterà durante la giornata Dopodiché ci sarà la presentazione del libro sui giovani maestri carristi Quest'anno abbiamo voluto dedicarlo proprio a loro Che sono gli artisti che stanno resistendo a questo momento difficile Ci sarà poi nei giorni successivi la presentazione della mostra del maestro Pierluigi Piccinetti Alla fondazione Cassa di Risparmio Sabato sera non ci dimentichiamo di un po' di festa ovviamente Nonostante il periodo faremo una cena con delitto di Carnevale Al castello di Montegiove con varie associazioni che collaborano con noi Il lunedì il classico consiglio comunale del Carnevale al foyer del Teatro della Fortuna E chiudiamo martedì grasso con la cerimonia appunto finale di chiusura Con una sorpresa che ovviamente non rivelo Quest'oggi abbiamo anche presentato il manifesto e il titolo del Carnevale Questo che vedete donato dal maestro Bruno Darcevia E il titolo di quest'anno del Carnevale è L'amor scortese Scortese non ha niente a che vedere con le violenze Niente di tutto questo ma semplicemente un modo ironico di interpretare l'amore Al via nel frattempo anche il tesseramento per il 2022 dell'ente carnevalesca Una realtà che tanto concede alla città di Fano dal punto di vista turistico E che altrettanto deve al lavoro dei carristi e di tutte le maestranze Il Carnevale non può arrendersi nonostante il problema che stiamo vivendo Ovviamente non era possibile fare il Carnevale in questo periodo di febbraio Ma comunque accenderemo i riflettori su quella che è l'antropologia del Carnevale Facendo quelle cose che sono realizzabili nel periodo di febbraio Comunque accettendo i riflettori su quelle che sono le nostre tradizioni carnevalesche Ma il Carnevale come lo conosciamo con il lavoro dei nostri maestri carristi Con la collaborazione con le associazioni Lo faremo nel periodo estivo, una data giugno, una data agosto Ecco, proprio per fare promozione dello stesso Con la speranza di tornare nel 2023 a pieno regime Quindi alla svelata in Viare Gramsci Oggi intendiamo fare una bella promozione di quelle che sono i lavori Delle maestranze fanesi e di quella che è la tradizione del Carnevale La Regione Marche sostiene questa iniziativa Che al pari di quelle che avvengono in altri territori Sanno esprimere quello che il nostro territorio offre Storia, tradizione e tanta passione Che si esprime appunto con il Carnevale di Fano Che è il più antico d'Italia O uno tra i più antichi d'Italia Proprio per questo a fine dicembre abbiamo approvato una delibera In giunta regionale che ha voluto riconoscere quelli che sono gli eventi più attrattivi Nella nostra regione Il Carnevale di Fano è arrivato ai vertici di questa gradatoria Che corrisponde poi a dei finanziamenti Dei finanziamenti con i quali noi sosteniamo la storia e le iniziative di questo Carnevale In grado di destogenalizzare il turismo nella nostra regione Anche nel sacrificio di una versione ridotta come quella che stiamo vivendo in questi anni A causa delle limitazioni del Covid Il Presidente Acquaroli, la Giunta Acquaroli È al fianco degli organizzatori del Carnevale di Fano È a fianco del Comune di Fano Perché questo Carnevale possa ritornare alla normalità E possa essere sempre più attrattivo Nel rispetto della grande maestria dei carristi fanesi Che sono l'orgoglio di questa regione e di questa città E concludiamo il nostro telegiornale di questa sera Per me è stata una bellissima esperienza Il pubblico ci ha premiato E in questi giorni sta uscendo anche 100 cose da sapere da fare a Dancone Nella riviera del Conero Quindi andiamo avanti Ti sei inserita su un qualcosa che forse mancava Nella divulgazione di questa città Nel racconto in questo formato così tascabile? Sì perché esistono libri simili Ma sono per lo più legati a grandi città Quindi Firenze, Venezia, Milano Da parte delle grandi case editrici Oppure ci sono dei libri magari più storici Fatti a livello locale Che non riescono a raggiungere una distribuzione ampia Con case editrici come il gruppo editoriale Raffaello Che è leader in Italia su tanti settori E in questo caso abbiamo proprio voluto valorizzare I territori della provincia Quelli meno inflazionati Del turismo non di massa E il fatto che c'è stato un riscontro così buono Ci fa capire che probabilmente le persone Hanno anche voglia di riscoprire le città I territori in cui vivono Senza andare troppo lontano E anche cercando un turismo esperenziale A 360 gradi Cose da sapere fare Che spaziano dalla cultura Al paesaggio Al gusto E agli eventi Sì qui abbiamo cercato di mettere davvero tutto Ovviamente 100 punti Sembrano tanti ma non sono mai sufficienti Quindi noi diamo delle idee Dei suggerimenti Poi sta al lettore Ampliare Approfondire E lasciamo anche dei riferimenti utili Per poter contattare le varie realtà È un libro fotografico Perché ci teniamo molto anche all'impatto visivo E quindi siamo passati dai festival Ce ne sono tantissimi Le rassegne La dimensione della città della bicicletta Città che legge Città creativa UNESCO della musica Quindi tanti titoli che Pesaro detiene Nonché tutta la parte dei dintorni Che comprende il Monte Feltro I borghi Quelli più noti Quelli meno noti Da Gradara a Urbino Fino a Sant'Ippolito San Costanzo Frontone La Montagna Il Monte Nerone Il Monte Catria Quindi c'è davvero un po' di tutto Abbiamo citato dei ristoranti Dei locali storici Delle chiese ovviamente Musei Esperienze che si possono fare Questo perché deve essere un libro Adatto sia ai cittadini Sia a chi raggiunge magari Pesaro Per un weekend Semplicemente dall'entroterra E sia anche ai turisti Che vengono da fuori E siamo davvero arrivati Alla fine del nostro telegiornale Ma prima aspettate Perché sono tanti gli appuntamenti Su Rossini TV A partire da questa sera In diretta Quindi vi chiedo di partecipare attivamente Mandandoci messaggi su Whatsapp O commentando la nostra diretta Sulla pagina Facebook Alle 21.20 Una nuova puntata Di Insieme a Canestro Con V. Sanford Che è la guardia della VL E Andrea Rinaldi Che è la mascotte Ape Andrea Quindi non perdete Questo appuntamento Potrete vincere dei biglietti Per le prossime partite E poi domani torna La consuetta rassegna stampa Domani con voi Alle 7.20 in diretta Ci sarà Daniele Sacchi E poi domani Il consueto appuntamento Del venerdì Alle 17.30 Con la lettura Il commento Al Vangelo Della domenica E per questo Ringraziamo sempre Tantissimo Don Marco Di Giorgio E Giorgio Ricci Che appunto Realizza queste riprese Quindi l'appuntamento A domani Alle 17.30 E sempre domani Consueto appuntamento Con il Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine Qui vedete Edoardo Orazzi Il nuovo conduttore Di questa stagione Del Valle Foglie Magazine Quindi tutti i venerdì Alle 20 Appuntamento Su Rossini TV Per le notizie Di questo grande territorio E poi sabato Torna Ui Pesaro TV In collaborazione Con il Comune di Pesaro L'appuntamento È alle 13.30 Mi raccomando Ricordatevi Quest'orario 13.30 Di sabato Ospite con noi Ci sarà Daniele Vimini Si parlerà Chiaramente Di cultura Di bellezza Sono tante le novità Di cui parlare In questi giorni E quindi Non perdetevi L'appuntamento Mentre domenica Il consueto appuntamento Con la diretta Su Rossini TV Delle messe A grande vostra richiesta E quindi domenica Prossima Quindi domenica 13 febbraio Alle 11.15 Saremo in diretta Dalla chiesa Corpus Domini A Padiglione Che trasmetteremo Chiaramente La Santa Messa E come vedete Sono tante le cose Che vi offre Rossini TV Ma io vi ricordo Anche il nostro numero Per le segnalazioni 370 366 72 10 Il numero Che potete utilizzare Per mandarci foto E video Ed essere anche voi Partecipe Alla nostra Emittente televisiva Grazie mille Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti